ciao benvenuti e benedetti vi prego di ricevere commenti aperta e affido all'immaginazione visivo uditiva le informazioni che stanno per essere trasmesse perché possano essere al servizio della coscienza maestra della luce collettiva io sono un umile messaggero coi i miei limiti e desidero e mi impegno facendo il meglio che posso per ricevere e trasmettere in questo video daremo uno sguardo ai messaggi inerenti le energie di questo passaggio in cui attraversiamo una sorta di cruna del lago della bilancia tra due porte infuocate dal segno dell'ariete governato da marte che si trova in gemelli e che accendono l'energia di campo con una tensione energica alla vittoria e ora si prospetta diciamo la necessità in qualche forma di un cambio di gioco e in questo caso diciamo le parti coinvolte mettiamo due squadre due parti dovranno trovare per rimanere anche nell'idea della dualità della bilancia che è un elemento trinitario ma che una caratterizzata dai due piatti potremmo dire ecco queste parti dovranno questi piatti anche dovranno trovare un accordo sinergico dal punto di vista fisico e questo per il governo metafisico della volontà di via divina quindi ecco e visto che in questo passaggio di numeri anche ne vedremo parecchi vi suggerisco ludicamente anche disegnare i numeri che risuoneranno in questa chiacchierata perché non si sa mai ovviamente e ovviamente non è un'istigazione al gioco d'azzardo ma ha un approccio equilibrato e leggero anche alla prima legge della natura che è quella dell'entropia ovvero del caos e quindi degli elementi imprevisti che è la direzione fisica naturale delle cose su cui la coscienza naturale della vita scienza e coscienza e la scienza condivisa e congiunta della vita che interviene come agente negentropico che porta ordine che porta chiarezza che porta organizzazione nel caos ed ecco anche perché per conservare l'energia dobbiamo necessariamente lavorare con la forza di gravità e quindi anche con potremmo dire per estensione col rapporto intimo e personale interiore tra gravità e leggerezza osservando e ponendoci nel punto dell'osservatore e testimoni del di questo pantarei realizzatori realizzando questo fluire e facciamo fluire anche in questo senso le carte le parole e portare anche i dovuti aggiustamenti utilizzando le nostre facoltà mentali in maniera questa coordinata sinergica reciproca comunicante armonica sto discernimento che caratterizza il rapporto tra le parti una una modalità che è condivisa che è interattiva che è interconnessa queste due doppio novilugno in ariete due porte di fuoco il 10 e il 3 intanto un 13 qui sul tavolo per gli amanti della geometria della numerologia e per i vari collegamenti trasformazionali che questo numero in sé a in come diciamo attributi se lo colleghiamo e lo associamo al significato del tredicesimo arcano l'arcano senza nome e senza numero che è un po come quella sefira nascosta nell'albero della vita e che è comunque per quello che riguarda diciamo il sistema ordinario dei tarocchi è l'arcano tredicesimo governato dal governatore moderno plutone come legame quel segno dello scorpione suo governatore moderno scorpione attualmente nodo sud nodo nord in toro e dall'altra parte l'antico governatore marte di questo segno dello scorpione e quindi anche come dire dell'archetipo tredicesimo scusatemi un l'imprevisto dicevamo e quindi due porte di fuoco quelle del doppio novilugno in ariete due emisferi quelli del cervello e anche quelli della terra due pilastri dell'albero della vita e al centro questa bilancia come papessa da un punto di vista di ricerca potremmo dire identificativa di archetipo individuale o come sentiero centrale dell'albero della vita stessa su questo sentiero centrale da malkuth questo regno della materia che discende dalla mater comunque dalla matrix si sale a jesus che è la nona sefira e poi a tiferet che è la sesta e quindi da tiferet si entra nel giardino dell'eden vedi poi quello che è da un punto di vista fisico nel campo di energie collettive il prosciugarsi del fiume ufrate quello che possono essere state diciamo anche le attività sismiche connesse a quelle che sono le profezie anche bibliche comunque ecco si entra da tiferet in questo giardino dal cancello della sefira nascosta che si chiama daat mi si perdonino qui le pronunce ma la differenza in ogni caso siccome procediamo per logica anche deduttiva con maat che è naturalmente per quello che sono i collegamenti linguistici delle radici perché anche il linguaggio comunque è profondamente intrecciato alla coscienza e quindi maat la dea egizia dea proprio della giustizia quella di da let nell'alfabeto ebraico che è la porta e la m che è mem tredicesima lettera dell'alfabeto ebraico che è la mater e la matrix e che è anche la differenza che c'è tra essere e non essere tra nato o non nato nome o senza nome è venuto alla luce una differenza diciamo che determina il fatto che singolarmente l'uomo veda la luce e quindi metaforicamente letteralmente venga alla luce e nel principio venga alla luce e torni alla luce nella fine ed è il rapporto tra alfa letteralmente intesa diciamo anche come costante di struttura fine del dell'universo 1 su 137 il suo rapporto all'andata e omega al ritorno chissà 137 comunque da tiferet si va diretti a che terra la prima sefira al numero 1 naturalmente su questo i numeri che saltano agli occhi sono il palindromo 1961 169 1 e a questo conteggio mancherebbe di aggiungere il numero di dat la sefira senza nome potremmo dire ma dat la consideriamo un operatore e non un numero perché è la conoscenza nascosta come numero magari la sua somma sarebbe 8 perché 8 8 8 è una serie universale tra due porte di fuoco la bilancia al centro la bilancia al centro è un campo come un verde campo da gioco colline bianche uno strumento di misura e una scala di misura anzi meglio potremmo dire al centro l'elemento della crescita viene portato all'attenzione e l'attenzione sintetica viene posta sul nostro ruolo attivo e sinergico rispetto al rapporto con la matrix ed in questo caso è proprio la bilancia come strumento a rappresentarla e la matrix viene ad assumere questa forma della giustizia nelle interconnessioni nei rapporti tra due piatti e la struttura meccanica di questo strumento bilancia con la croce degli assi al centro l'angelo seia si fa presente si perdonino le pronunce shin adef e perché il suono è così importante componente la fonetica naturalmente siamo a conoscenza di questo e quindi che ci si passi il limite della nostra ignoranza in questo senso che speriamo ovviamente di colmare e che ci impegniamo a lavorare in tal senso ma in ogni caso ecco questa radice che è una un tre al cubo da un punto di vista dimensionale radice di questo nome di questo angelo ventottesimo soffio quarto raggio angelico nel coro degli angeli dominazioni la terza e la sesta dimensione più naturalmente il nome divino io e il quindici che riporta un sessanta con un 27 più 15 totale che ci dà un 42 la 40 del quarantaduesima generazione appunto quella cristica quella di cristo diciamo da bram se non sbaglio a cristo sono 42 da bramo a cristo sono 42 generazioni quindi noi potremmo dire di essere legati in qualche forma anche alla quarantatresima ideale generazione in ogni caso questo angelo che a domicilio zodiacale dal quindicesimo al venti al ventesimo grado del leone è l'angelo custode dei nati dal 7 al 12 agosto ed è uno dei sei angeli custodi di questo segno del leone che è un segno nella nostra attenzione nell'attenzione del campo energetico per quanto riguarda il passaggio di plutoni in acquario ovvero sull'asse acquario leone naturalmente queste potenze solari che gli angeli del leone in sé che leone come segno centrato sul chakra del nostro cuore collettivamente suscitano un senso di fierezza spirituale e di e questo angelo in particolare significa dio che guarisce o anche dio che risana i malati e procura come dono dispensa l'intensità di vita insieme alla longevità dice aziel che ne qui cito testualmente che se ea governa alcune specifiche forze di marte qui stiamo naturalmente riallacciandoci sia i nuovi luni in ariete che alla posizione di marte in gemelli che vengono in aiuto per proteggere da tutte e naturalmente anche appunto con la posizione di marte in gemelli andiamo a considerare che anche che il nove lunio in ariete per il segno dei gemelli appunto avviene nella casa dell'acquario quindi ci sono dei legami molto stretti tra la riete i gemelli l'acquario e i loro assi sostanzialmente quindi ariete bilancia gemelli sagittario acquario leone che sono prettamente coinvolti così come toro scorpione come asse nodale pronto al cambio i pesci vergine anche in questo passaggio questo queste energie sono estremamente intrecciate l'attenzione è portata sui segni cardinali segni fissi in particolare che potrebbero essere quelli che mostrano particolari resistenze e in ogni caso ecco viene questo angelo a portare a governare governare determinate forze di marte che sono il nostro aiuto per proteggerci da quelle energie di marte distruttive legate all'arcangelo kamael giustizia di dio che dona diciamo la saggezza attraverso le esperienze e come dire no in prima persona so che questo è un cammino per esempio piuttosto severo a volte consideriamo anche la posizione di saturno in pesce a smussare questa energia la ora diciamo quindi che questo angelo previene anche quelle che possono essere le conseguenze traumatiche e quindi di questa saggezza che si acquisisce attraverso le esperienze quindi fare in modo che sia il più dolce possibile l'apprendimento anche appunto donando questa grazia gioiosa che appartiene alla quarta sefira quella di esediel come arcangelo legato a giove come signore del suo coro e la meditazione associata si chiama proprio l'anima gemella e qui ci andiamo a riallacciare all'idea della bilancia anche come segno come casa come archetipo è la casa del matrimonio e secondo la cabala questo nome fornisce lo strumento meditativo più efficace per chi magari pur essendo contornato da molte persone non riesca magari a percepire la vicinanza o il calore degli altri qui si parla di scambio energetico tra noi e gli altri e si sente magari anche solo nel mondo questa meditazione volta a riuscire a ritrovare un senso anche di interconnessione tra noi a riconoscere chi ci amico ea collegarci alle anime che ci sono affini quindi per estensione le nostre anime gemelle o la nostra anima gemella e ora diciamo no la meditazione recita così collegata a questa radice delle lettere shin aleph e dei questo nome risveglia nel mio essere l'energia dell'anima gemella ora io attraggo l'altra metà della mia anima tutte le mie relazioni attuali sono profondamente imbevute e arricchite dell'energia delle affinità dell'anima si diceva in qualche tempo in qualche video fa che lo sconosciuto e l'ignoto sono si espandono in maniera direttamente proporzionale al quadrato della conoscenza e questo veniva allacciato questo concetto alla velocità della luce e alla famosa formula che l'energia uguale alla massa per la velocità della luce al quadrato e anche quelle che sono le relazioni quantitative quantistiche del moto viene portata la nostra attenzione visiva all'arcobaleno e con questo concetto anche la fisica quantistica detta cromo dinamica che descrive l'interazione forte plasma coscienza nel sangue di luce in questo video parliamo del passaggio appunto tra queste due aleph dell'ariete che governato da marte che è in gemelli con questa luna piena in bilancia governata da venere in toro al centro passiamo dal diciamo un passaggio dal 21 marzo 6 aprile 20 aprile che è piuttosto intenso e che sarà ancor più intensificato diciamo nel lungo raggio in quanto poi il 20 aprile è anche una eclissi solare detta ibrida il primo novilunio in ariete 21 marzo con equinozio il 20 di marzo saturno in pesci il 7 di marzo plutone che si affaccia in acquario dopo 250 anni 248 il 23 marzo che quadra a t fino a novembre 2023 l'asse nodale del futuro che abbiamo detto essere in toro qui o dei dei segni della terra e abbiamo come dire questo asse nodale del futuro è passato collettivo per otto mesi quadrato alla trasformazione un'enorme pressione un'urgenza sul cambiamento evidenti conclusioni e importanti nuovi grandi inizi il toro naturalmente anche riguarda il sistema bancario delle valute del benessere anche materiale del cibo dell'alimentazione del nutrimento e la nutrizione in questo senso dei valori del piacere lo scorpione sono il denaro condiviso il denaro delle dei grandi gruppi come dire il denaro anche collettivo l'economia collettiva e il denaro anche quello che proveniente dal dalla criminalità quello sotterraneo il nero la tossicità gli investimenti e anche diciamo i prestiti tutto quello che riguarda il rapporto credito debito è l'asse finanziario quello su cui questa pressione viene posta e l'asse nodale si muove diciamo in maniera in senso orario e quindi è rispetto a tutto il resto sempre retrogrado potremmo dire e plutone rivela diciamo ogni agenda nascosta rispetto anche alla corruzione alle menzogne tutto ciò che è connesso con con il segno in cui si trova in questo caso appunto in acquario che è un segno di collettività ed è il segno dell'universalità dell'unità nel molteplice e anche intensifica le caratteristiche diciamo di questo segno nelle luce nelle luci e nelle ombre plutone praticamente era si era spostato in capricorno nel 2008 e diciamo la fine la crisi finanziaria globale come no viene rappresentarsi da questo punto in poi con il crollo di strutture piramidali anche brutone è diciamo il segno in cui risiede il potere e rispetto anche a questo segno risiede la verità così cosiddetta anche e risuonano anche ancora profezie relative al fiume ofrate il cambiamento evoluzionario è estremamente intenso e l'intensità è quella di una delle rapide di movimenti che sono accelerati e questa parte o estremamente dall'altra parte estremamente lenti oppure potremo percepire questo l'idea della spiralità in maniera particolare particolarmente accentuata di come gestire con gli equilibri per muoverci in quelli che sono sistemi naturalmente spiralizzanti e questa diciamo è la fine diciamo di un vecchio modo di procedere o di processare e questo aspetto di saturno in pesci che è diciamo l'incontro del tangibile con le dimensioni superiori è un incontro in cui la terza dimensione si dissolve il tempo si si rivela la spirale si rivela illusoria e il concetto di tempo e spazio anche nella scienza e nella fisica anche viene a rivelare la questa prospettiva della rivelare la più grande il tempo come una delle delle più grandi bugie potremmo dire ma anche in questo senso verità e quindi quella che è il rapporto diciamo del velo rispetto alla verità e alla conoscenza queste stesse coordinate del quadrato atti tra plutone l'asse nodale erano diciamo nel 1789 le coordinate che hanno portato alla presa della bastiglia quindi ai radicali cambiamenti che la società che questo evento politico determinò e ha determinato poi per il futuro nella società la nascita di una classe media non focalizzarsi su quello che finisce e quindi radicali cambiamenti appunto anche sul piano sociale ed economico e finanziario e non focalizzarsi su quello che finisce ma su quello che inizia occhio anche alle news perché hanno questo potere dell'agenda dell'ombra e si crea un entanglement con qualsiasi cosa su cui ci focalizziamo quando gli diamo attenzione ed energia creiamo una una stampa una matrix la frequenza del divino femminile supporta la nostra recettività la nostra capacità di nutrire il nostro lato dolce permette lo gli permette di esprimersi di permette di esprimersi apertamente aiutandoci a connettere con la nostra comprensione intrinseca e la nostra connessione a tutta la creazione le eclissi quella del 20 di aprile solare ibrida appunto e quella poi successiva del 15 maggio lunare penumbrale saranno fortissime da un punto di vista energetico e saranno le ultime su questo asse nodale finanziario attuale per altri 9 anni perché poi poi l'asse appunto diventerà ariete bilancia ecco anche perché queste energie si intrecciano da un punto di vista di coscienza così in maniera stretta in giugno luglio avremo anche possiamo prevedere un apice in dicembre dopo che plutone rientra in capricorno al ventinovesimo grado perché ritorna diciamo a muoversi su quel grado poi gennaio settembre ottobre novembre 2024 e da dicembre 2024 si stabilizza nell'acquario per vent'anni che è il segno della gente e della coscienza collettiva del sistema umano e venere in toro e quindi del sistema umano come anche inclusivo di quella che era connessione fisica degli elementi fisici con con la terra l'amore universale la frequenza dell'amore universale attiva la connessione che noi sentiamo gli uni agli altri al nostro pianeta e all'intera esistenza come tale venere in toro dal 16 marzo fino all'undici di giugno mercurio nettuno il 16 marzo erano congiunti oggi è il 19 festa del papà comunque uno massico del mio nonno e in ogni caso la luna piena in bilancia poi del 6 di aprile anche se nelle mie ricezioni quello che viene fatto presente più che il 6 stesso e il 7 aprile e anche il secondo novilunio in ariete quello del 20 di aprile con l'eclissi solare o ibrida che cambia col punto di vista dell'osservatore che quindi porta in sé la risonanza del campo evolutivo delle teorie di diciamo scienziati potremmo chiamarli anche se no operano in aree diverse uno psicologo se non sbaglio cognitivo un altro è un nastro fisico eccetera ma risuonano le teorie di donald offman e di brian keating e di avi loeb e questi riferimenti ve li posso lasciare poi nella descrizione del video e in ogni caso questo primo novilunio rappresenta sicuramente l'aspetto magico il risvegliarsi da un punto di vista se guardassimo le chiavi magiche dei quadrati di salomone quadrati magici l'energia dell'ovest come luogo di risveglio di energie sopite vengono riportate alla luce il 7 aprile 747 l'energia di zadik del numero 18 valore gematrico della parola vita il giorno proprio della luna piena in bilancia il 6 di aprile valore della parola trascendenza e le profezie prosciugarsi delle ufrate i quattro angoli e angeli incatenati i punti cardinali del mondo il 22 e l'asse ariete bilancia l'asse del mondo e capricorno cancro si svegliano questi assi nelle profezie dell'antico testamento nella rivelazione scritto che questo no queste profezie che un terzo andrà perduto e come dire l'inconscio collettivo emerge dagli abissi con particolare vehemenza in questa danza e tempo di preghiera di unirci in spirito all'invisibile ai nostri antenati e rifarsi piccoli davanti alle potenze del cielo e a quelle della terra che vengono risvegliate a causa dell'empia condotta dell'uomo enoc ci salvò la prima volta quindi gesù cristo il messia che è il presente tuttora vivente che salva nel riconoscere il suo regno il se futuro che parla al se presente il messia che salva nel participio sinergico presente 33 22 numeri maestri il messia venturo è il messaggio di qui ed ora che sono illusione danza dei fantasmi è la voce che raggiunge che ci raggiunge dagli abissi transiderali nello spazio e nel tempo e questo o mua mua anche come messaggero transiderale che viene raccolto dalla nostra coscienza nel nostro campo di attenzione come un sasso che gli somiglia che riporta anche all'idea dei filamento dei pesci balena e delle strutture gravitazionali superiori all'anni achea ci riporta al nostro abisso l'universo e come dire la voce che ci raggiunge da questi abissi transiderali nello spazio nel tempo entra ma è un'eterna voce che risuona dentro la luce della creazione nel suo cuore nel suo centro chiediamo di essere guidati con il discernimento per la seconda volta la frequenza del discernimento che supporta la nostra capacità di vedere il mondo e le persone intorno a noi da un da una posizione di equilibrio interiore balance bilancia e distacco anche sebbene e mantenendoci compassionevoli e saggi chiediamo di essere guidati all'elevazione della nostra visione a livello non solo individuale ma soprattutto collettivo per il bene di tutti che siamo uno io benedicendo te benedico anche me e siamo chiamati a realizzare il ruolo attivo del campo quantico della nostra coscienza come partecipe del logos universale ed apre a noi l'archivio di una remota antica conoscenza che risuona dal principio dell'universo in campo fisico e da quello della creazione in campo metafisico la credenza i sistemi di credenza la capacità di credere la frequenza di questa energia rappresentata nell'undici dopo malcut potremmo dire daat la conoscenza nascosta supporta il nostro senso di autostima di valore personale che ci insegna anche questo rapporto dell'asse nodale in toro basato sui nostri doni e talenti e una forte connessione alla sorgente e quindi ciascuno di noi viene suggerito anche nella retrospettiva di questa prospettiva di noi retrogrado plutone ciascuno di noi smetta di lamentarsi senza voltarsi si direi parla chi ha plutone in bilancia in questo caso anche come messaggero non sparate sul messaggero e senza voltarsi si diriga verso il futuro assumendosi la piena responsabilità del miglioramento della qualità della vita per sé per gli altri in virtù della metà della parabola di orfeuri dice anche per salute salvezza e per ricevere per irradiare e per rilasciare fotoni lavorando con la luce come alfa insegna sul piano fisico e come omega insegna su quello il principio metafisico alefta 401 e 1400 portati in evidenza 400 004 codici sviscerabili matematicamente a prova del principio metafisico di cui il numero è puro omen segno nome e nome a me e questo non perché nostro ma per concessione permesso constatato il passato e riconosciuto l'albero della conoscenza grazie appunto e della riconoscenza e grazie al sacrificio di cristo abbiamo ricevuto la grazia e l'autorità del di un'unità integrità dignità ritrovate l'opportunità di mettere in pratica la conoscenza perdonata perché si alimenti questa questa vita è ricevuta ricevuta e perdonata non è da noi che procede l'autorità il potere il controllo questi procedono e provengono dal principio contenuto nella fine che è rappresentato anche dalla lettera samec che ha come valore il numero 60 e che come nome anche il numero 15 15 e 60 la nube di orto viene portata in evidenza che si trova oltre plutone e nelle nei confini più lontani della cintura di kuiper e mentre i pianeti del nostro sistema solare orbitano in un piano piatto potremmo dire su un foglio bidimensionale la nube di orto è una gigante un gigante uovo guscio sferico ellittico che di cui anche diciamo i suoi oggetti mantengono la forma ed è diciamo che circonda il sole i pianeti la cintura di kuiper che il contiene quindi come una enorme bolla e spessa intorno al nostro sistema totale fatta di ghiaccio e di comete anche che sono oggetti ricoperti di di acqua ghiacciata o mua mua non è una cometa è un altro tipo di struttura particolarmente ancora misteriosa alla scienza le comete no perché la loro scia è dovuta dallo sciogliersi di questa acqua superficiale ghiacciata al contatto col calore del sole e questa diciamo no e a volte questi corpi possono essere larghi enormi come montagne come la prossima cometa che dovrebbe raggiungerci intorno al 2035 che detta berardinelli bernstein una un colosso dal sud del suo genere in ogni caso altri corpi messaggeri transiderali transitano nel nostro sistema solare di altra specie ancora non non determinata dalla scienza salta all'occhio questa stella naturalmente questo pentagono che risulta essere l'unica forma geometrica in grado di collegare esagoni di forme più piccole o diverse e questa nuve di orte le comete che sopravvivono dall'origine del sistema solare fino al tempo presente e che come dire quindi hanno in sé l'archivio della conoscenza del principio e anche gli asteroidi migranti dal dal principio verso la fine e siamo anche noi sulla via del ritorno a questo principio e siamo presente a ville che siamo anche l'unica popolazione dell'universo che mette a repentaglio la sua stessa sopravvivenza quindi a volte no ci si stupi magari ecco perché no molti sono convinti che siamo l'unica popolazione dell'universo probabilmente e da questo punto di vista è vero che lo siamo l'acciaio iridescente con il calore anche viene portato in evidenza l'idea del del calore che rende questo metallo iridescente il potere è l'unica autorità che viene da dio luce da luce calore ed energia e siamo continuamente in sinergia con lui e nella sua rete siamo fusi in uno qui viene portato in evidenza questo uno da questa lancia insieme a un 6 e 1 che diventa 7 siamo una fusione l'energia della fusione come la fusione diciamo come fonte di energia anche nel campo della coscienza collettiva per la nostra energia individuale viene a risuonare john coltrain è un brano che si chiama anno le cement nel suo album e love supreme questo amore universale supremo l'unità questo dovrebbe perché viene fatto presente perché questo è il punto focale la nostra della nostra attenzione e investe le nostre energie anche in maniera conseguente investiamo anche noi appunto conseguentemente a questo punto focale l'energia seguendo i principi che la natura ci insegna viene fatto presente la parola greco antico e exusia che significa in inglese può essere tradotto tu exud esudare non si dice in italiano si dice trasudare ma esudare in questo caso è leggermente più profondo di trasudare energia e potere perché è relativo alla trasmissione e quindi al passaggio per trasudare è questa trasmissione è il passaggio mentre esudare è un è più in profondità è come essere la terra benedetta dall'esondazione di questo potere e quindi è passivo rispetto al trasudare e molti si illudono e si ingannano rispetto alla causa e all'effetto cioè invertono le polarità di questi principi di discendenza ed ecco perché le generazioni e i numeri biblici relativi alle genealogie dei patriarchi sono così profondamente significativi alla luce dei calcoli gematrici e anche di quelli eventuali matematici chi si volesse dilettare chi già si diletta con le strutture geometriche che dai codici si generano nel campo di coscienza che un computer può rendere anche graficamente ma soprattutto la genealogia è in relazione anche al codice genetico naturalmente e alla discendenza che deriva dall'atto generativo dell'andare e moltiplicarsi ed è un'esplosione di semi attraverso il chakra della gola in questo senso il mio in questo caso specifico della sincronicità che parlo e di questi semi che piovono come zucche sul pianeta fra edifici e tra gli edifici tra le case e questa discendenza non è solo il principio di causalità discendente quindi il principio causale nei termini appunto in cui fisicamente la causalità è discendente ma è anche l'effetto di questo principio sebbene al contempo siano separati sono uniti e divisi nello stesso tempo perché la percezione di altro da dio all'infuori di dio è pura illusione puro inganno della luce la gazzaladra che spesso si incontra sul cammino e questo deve portare l'uomo a riconoscere dunque quei tesori che sono preziosi e che non sono illusione perché l'amore è l'unica verità e chi amiamo viene prima di cosa o quello a me che amiamo qualsiasi cosa mettiamo questa cosa se vogliamo tra virgolette ci divide ci frammenta se gliene diamo il potere l'autorità si fa il nostro potestà ma la potestà la insegna la saggezza la saggezza fatta parola e la prospettiva che ne discende fatta su scale metafisiche perché è nella natura delle cose che non se ne possa prescindere e quello che ci unisce che ci tiene in vita è l'amore come amma gamma suona e ma ai madre or come la luce questo espandersi nella lettera e nello spazio che è la quinta forza metafisica e dal punto di vista fisico è legata alla luce alla costante di struttura fine alfa naturalmente la luce non è solo i fotoni e che la lente diciamo attraverso la quale la vediamo è la coscienza che è questo prisma primordiale metafisico ritorna questo arcobaleno iniziale noi siamo discendenti del prisma coscienza della coscienza divina e della coscienza di prima perché questo è arrivato anche prima in questa lettura le infrastrutture servono come dire per veicolare e sono veicolate ma viene presente adesso in questo senso l'amore romantico l'amore che supporta il nostro viaggio a sentirci uno integro completo attraverso l'esperienza con l'altro con il riflesso di un di un'anima gemella di un partner cosciente di un altro che amiamo come noi stessi un prossimo e quindi ciò che viene prima è quello che è il futuro che viene dopo la coscienza della prima e la coscienza di dopo ma il punto di unione sicuramente è questo presente questo queste diciamo infrastrutture sono veicolate da sovrastrutture esponenzialmente più sagge quindi è opportuno mantenere appunto questo equilibrio per evitare anche mistificazioni che siano dannose questo calore che irradia che scioglie l'universo al passaggio nel tempo fisico di cui potremmo essere l'emanazione di energia pura che ritorna a platone naturalmente plotino il platonismo dinamico in questo senso la metafisica dinamica anche del campo quantico la frequenza della dinamica che supporta la nostra capacità di armonizzare attraverso i livelli e gli aspetti di differenti origini e frequenza come no appunto la dinamica che è così dinamico anche no come rappresentato l'arcobaleno in questa carta di nuovo appunto l'interazione le interazioni forti il mettere insieme una realtà che sia fatta di differenti elementi una nel molteplici familiari e nuovi fisici e metafisici con grazia leggerezza e con gioia enorme gioia enorme gioia enorme gioia enorme gioia è energia pura che fonde il cuore delle stelle e il nostro cuore come di esse discendenti è è acceso dallo stesso fuoco trasformiamo il sangue in luce rosso e bianco come templari rosso e oro come nelle cerimonie rituali la trasmutazione del fisico nel metafisico e viceversa e del sangue e luce della salvezza dell'umanità come cristo ci mostra perché serva a cosa serve questa visione ad aprire la porta alla via di luce perché possiamo camminare nella certa fede alimentata da da una saggezza condivisa nella natura più intima e profonda dell'universo come ignorare la partecipazione della coscienza superiore al dibattere sulla conoscenza coscienza una scienza condivisa anche tra ossigeno e carbonio alla scienza diciamo no è legata con un legame covalente anche questo caso regolato da alfa un'interazione forte fra le parti la luna nuova in ariete per esempio per i gemelli casa 11 di speranze di sogni e desideri quindi casa delle stelle stella dell'acquario e questa casa risuona nel collettivo come croce nodale sud in scorpione che eleva l'ombra alla luce il messaggio che conduce all'inversione del processo magnetico conduce elettricamente ma cosa vuol dire precisamente la parola autorità è una parola che anche ha perso appunto il suo significato più profondo come detto anche in un articolo che risuona nelle nei passaggi diciamo del cammino di un signore che si chiama gaetano masciullo incontrato appunto nei giorni presenti la parola autorità ci dice alla stessa radice della parola italiana autore colui che fabbrica un oggetto conosce profondamente la natura di ciò che ha prodotto un vasaglio per esempio ancora prima di produrre il vaso anche a chiara in mente l'idea di quello che si accinge a creare non a caso troviamo proprio questo esempio nella scrittura forse il vasaglio è stimato pari alla creta che lavora un oggetto qui viene fatta presente anche la lettera chat ottava lettera dell'alfabeto ebraico lettera della quarta sefira cesè d'amore universale un oggetto può dire del suo autore non mi ha fatto lui è un vaso può dire del vasaio non capisce ciò che ha fatto dice isaia 29 16 dal momento che dio conosce la natura dell'uomo egli sa ciò che conviene all'uomo per essere felice si fa maestro e poi trasmette questa autorità agli uomini che tuttavia non diventano padroni della rivelazione giustamente ci fa notare e quando israele uscì dall'egitto mosea divise il popolo in due parti da una parte i leviti custoditi custodi del culto ma senza eredità quindi senza autorità e dall'altra parte le restanti undici tribù custodi della vita politica su unici anche che risuona nelle credenze ma senza riguardi religiosi e morali quindi senza potestà questa divisione era necessaria per evitare che chi gestiva la cosa pubblica non si erogasse una supremazia morale e chi custodiva la dottrina non la imponesse con forza con la forza andando contro la libertà degli esseri umani interazione forte nessuna azione retta infatti se forzata è giusta gesù insegnava e agiva con potestà cafarnao c'è infatti un solo punto in cui autorità e potestà coincidono perfettamente e questo punto è dio dal quale scaturiscono sia l'una che l'altra gesù allora in questa pagina diciamo del vangelo si manifesta come dio e a livello di discendenza notiamo che gesù è figlio di davide cioè re ma allo stesso tempo è figlio di maria che apparteneva alla tribù di levi come e quindi imparentata col sacerdote zaccaria che figlia di anna come la mia mamma secondo la tradizione figlia delle vita matan sono riuniti in lui autorità e potestà spesso anche ci viene fatto presente da questo riferimento anche che etica e morale sono hanno un tipo di percezione diversa sono usati come sinonimi ma occorre precisare che esiste una differenza morale è l'insieme dei valori di un gruppo di un individuo di una collettività come anche no questo l'undicesima casa quella dell'acquario l'etica è che oltre a condividere questo insieme di valori c'è anche una riflessione speculativa sulle norme sui valori quindi c'è un'organizzazione un elemento nell'entropico portato dalla coscienza e i limiti questo anche no viene fatto presente in quello che è la previdenza forense nella vocatura come etica morale e deontologia nelle libere professioni i limiti posti dalla natura vanno rispettati e se non devotamente quantomeno eticamente e l'etica è un principio che è superiore al mio umidissimo riflessione alla morale in questo caso la percezione e viene anche suggerito che dalla scienza viene fatto come un flash e segnali nervosi presenti preservano la coerenza quantica e del campo quantico hanno questa proprietà rispetto alla conduzione saturno nei pesci fino al 2026 è sull'asse pesci vergine nettuno mercurio anche che vengono ad agire su questo asse i limiti della mente dei veicoli portati in evidenza mercurio che è soggetto un po alla severità di saturno ma che poi la dissolve diciamo nella nell'immensità nella metafisicità nell'infinito e navigar me dolce in questo mare della libertà dinamica del fluire che governa gli oceani del campo magnetico e l'idea dell'espansione la presa del tempo di il cronos si dissolve nella luce il tempo è stato come un appunto per secoli questa grande illusione dei popoli ma così saggia illusione dei popoli pensiamo al calendario maia il tempo è una forma dell'energia ma il tempo non è l'energia il segno dei pesci è anche l'arcano maggiore dell'appeso l'arcano maggiore dodicesimo che può indicare un momento di pausa che indica il limbo che papa benedetto tolse dall'idea teologica cattolica una stagnazione che però ha il proposito di condurre una visione più elevata e capovolgere e invertire la prospettiva delle cose e conseguente conseguentemente ripolarizzare la parola plutone in acquario quest'anno fino all 11 giugno poi successivamente appunto come detto per vent'anni governa anche queste profondità in cui anche risiede il fuoco nel nucleo della terra il potere la divina potestà l'autorità di dio e della metafisica divina quantistica nel campo della materia da cui discende la materia e la fisica quantistica veicolo di miracoli viene portata all'attenzione il cervello con la croce andina il cervello come area cosciente la percezione della materia il cerebellum come area inconscio e contiene molti più neuroni il cerebellum a livello computazionale è molto più attivo svolge molte più operazioni da lui discende la coscienza pomo di questo bastone del potere il talamo la radice viene portata in evidenza terla mer e l'agnello viene suggerito anche viene il 60 nuovamente in questa ricerca della visione suggerito anche il rapporto tra sistema tolemaico e copernicano il sistema tolemaico che un modello geocentrico che quello collocava la terra al centro del sistema solare e sostituito poi dal sistema copernicano primo e vero modello eliocentrico che poneva il sole al centro del nostro sistema viene portata all'attenzione su queste lettere su queste radici sul nome telemaco figlio di ulisse penelope il nome appunto deriva dal greco telemaco latinizzato poi in telemaco che significa colui che combatte da lontano da lontano da remoto nell'odissea di omero telemaco era il e quindi anche ciò che telematico era figlio di ulisse penelope venuto al mondo proprio il giorno in cui il padre dovette partire per la guerra di troia la coscienza divina è oltre la ricerca della visione della croce andina una visione che avviene attraverso una percezione e la percezione e i sensi e il sesto senso la coscienza divina oltre la nostra comprensione per definizione noi sperimentiamo la conoscenza parlata nelle cose parlata in esistenza sperimentiamo la nostra coscienza come una realtà essere coscienti dell'intreccio della luce nella vita oltre il spazio il tempo c'è la logica e come dire i nostri neuroni sono particelle nel campo fisico nel campo quantico fisico dello spazio tempo ma sul sul livello dinamico o quanto dinamico nel campo metafisico del logos della logica della causalità discendente o della parola del segno del grafene del carbonio delle radici del linguaggio un tempio pi greco fatto entro laurea e laurea proporzione con un campanile in cima che appare come un faro e anche come il coperchio della pentola e questo santuario che è chiamato anche alfa i livelli della verità e le potenziali frattalizzazioni loops frattalizzati patterns in modalità notturna tutto è perfetto e come potrebbe non essere quando si affida alla saggezza che ci guida perché il logo squida a credere nell'invisibile ci guida in quello che è l'elemento ciclico e duale guida l'intuizione guida il nostro rapporto col cervello destro col nostro principio femminile citato all'inizio e questi linguaggio logica generano un campo in cui queste forze sono enti invisibili pura energia che precede qualsiasi forma e che viene racchiusa come un nozzolo nella forma del frutto della parola questo bambino interiore 737 portato all'attenzione come palindromo naturalmente se qualcosa cattura la vostra attenzione anche la ricerca personale è fortemente suggerita e ben alla terza sefira in questo senso imprime la forma e matrix matrice la forma giusta per la sostanza contenuta il frutto della bicocca della prugna della pesca le mandorle come frutto l'ave si capisci come luogo di questo concilio della luce rappresentato in questo frangente viene portata in attenzione l'unione del nome del tetragramma e del nome elohim viene portata l'attenzione nel nome chava o hava nome femminile ebraico che significa vita che è la forma ebraica di eva che significa vivente derivato dall'ebraico cava che significa dare la vita dare alla vita vivere ava come anche avana cuba viene portata all'attenzione come spunto per qualcuno che si trova in ricezione bene al plenilugno diamo un valore di 8 8 8 diviso 2 24 diviso 2 per trovare un punto mediano di questa unione in base calcoli fatti un punto cristico della luna piena in bilancia sicuramente per quelli che sono i valori gematrici della trasmissione ricevuta in base di codi ai codici letterali e numerici ruota zodiacale in andata e ritorno pendolo vengono portati in evidenza i livelli del velo le real le molteplici realtà sfumature prospettive viene portato in evidenza il principio tutto ovunque allo stesso tempo l'essere insieme l'unità l'interconnessione le superimposizioni gli overlay una superimposizione per riflessione l'autoriflessione l'immagine introspettiva il flash la luce la fotografia nel buio nell'ombra l'immaginazione immagini immagine azione naturalmente 72 nomi divini portati all'attenzione quattro settori di cerchio e due angoli da 180 gradi l'alfa questi diciamo queste informazioni sintetizzabili nel passaggio essere non essere costante risposta una congiunzione su una disgiunzione una congiunzione che trionfa sulla disgiunzione la luce del sole il sole come esperienza l'esperienza proiezione olografica della coscienza fondata sulla direzione impressa dalla matrice all'azione della coscienza dalla coscienza quindi che permette la proiezione olografica dell'esperienza stessa nei termini determinati dalla direzione impressa ma anche della volontà superiore fiat punto diciamo diremmo che abbiamo impostato come orientamento generale come stella polare dell'esperienza stessa fusione per produrre energia zona di invisibilità che è una superimposizione un overlay un velo la terza dimensione che è una serie di strati a due dimensioni come una risma di fogli su cui ci eleviamo su cui si scrive col carbonio bidimensionalmente ma nell'asse sull'asse è tridimensionale è profonda le soluzioni inaspettate le cose sotto i nostri occhi che non vediamo le borse anche sotto gli occhi che si formano per contenere queste cose che non vediamo e inaspettate rivelazioni che sciogliamo che scopriamo da noi stessi quando messi sotto pressione quel che emerge quello che si chiama anche l'ombra il patrimonio da curare e il matrimonio con la luce che si crea considerando l'ombra alla radice l'idea radica della radice portata anche nella forma del lampo del fulmine del tuono del circuito neuronale che si crea considerando l'ombra alla radice la radice della parola anche della comunicazione suggerita in precedenza accettando che fa parte del bambino che ha paura sono vasi comunicanti i mondi e le dimensioni il vedente o chiaroveggente o profeta ma è colui che vede ma ha una benda sugli occhi vede con l'occhio della mente il rosso il nero e stendal le pinne dei pesci sono fatte dagli scarti delle ali degli uccelli ecco perché risultano complementari come osservato nel dipinto di esce altri dipinti come angeli e demoni portati all'evidenza della scienza il ferro che è endotermico che richiede più energia diciamo per essere creato il ferro che al centro dell'emoglobina e della crosta terrestre il ferro che si magnetizza colui che vede il mondo superiore la polarizzazione della luce fare creare una una luce polarizzata da un iniziale sorgente non polarizzata la tensione della scienza la fusione l'elio che si crea successivamente all'ossigeno che non crea sul riscaldamento le luciole nel cielo blu le sono stelle di qua giù il blu il verde e il rosso appunto ancora la cromodinamica quantistica ma anche il ciano il giallo e il ciano batterio citato qualche tempo fa intorno a novembre la vecchia finestra di eclissi viene portata all'attenzione il concetto anche di inflazione su tutti i campi come aumento del generalizzato a livello economico dei prezzi ma anche in cosmologia come inflazione cosmica che è necessaria perché la diciamo teoria che giustifica l'omogeneità dell'universo ma sembra diciamo dalle informazioni ricevute che non sia la soluzione definitiva a nostro avviso questa omogeneità è determinata anche da un ulteriore fattore che è legato alla funzione anche dei gluoni e non sono un tecnico ma questo si suggerisce che il gluone particella elementare che funge da da particella di scambio in questo campo di energia della coscienza per la forte diciamo per la forza forte tra i quark si è sempre si parla di interazioni forti in ogni caso anche per quanto riguarda questi pianeti pachidermici che hanno in sé il tiro dell'energia i confini del visibile dell'universo è uno scambio diciamo analogo allo scambio di fotoni nella forza elettromagnetica tra due particelle cariche tra noi e la luce questi gluoni leggo legano insieme i quark quindi formano anche a droni anche portato all'attenzione il cern su questo con ladron con leader e il multiverso che è una diretta conseguenza di una serie di come no si mettiamo a soffiare bolle di sapone e che creano questi mondi ma noi adesso focalizziamo sul soffiare plutone attraverso l'occhio del lago la crona del lago della bilancia durante questo passaggio il tonino acquario 23 di marzo passare far passare un pianeta nella crona di un cerchio lo soffiamo oltre la porta come una bolla di sapone che parte come acqua e si trasforma in una nuova sapone appunto e si trasforma in una nuova creatura una nuova dimensione da una sorta di rigenerazione e ci leviamo al di sopra di questa illusione e la fisica anche inizia a supporre che la coscienza sia una legge dell'universo che sia un campo da cui tutta la materia origine la cellula se cosciente l'atomo cosciente la coscienza e l'inconscio che rappresentano una quinta forza che genera l'illusione dello spazio del tempo attraverso la luce rimaniamo centrati al di sopra delle illusioni come in cielo così in terra grazie luce per il tuo tempo e per quello che ci dai anche i termini di tempo è un meraviglioso spazio per questa vita da in cui gioire ed espandere ed evolvere e godere sfruttare ciò che è vero che è eterno è la età d'oro della materia della luce del corpo di luce del sangue di luce da cui la divina coscienza trasmette attraverso anche il quale la divina coscienza trasmette amore per noi per farne esperienza e luce da vivere per sempre nell'eternità la dinamica della coscienza il tempo e lo spazio e la realtà i loro rapporti oltre il tempo lo spazio appunto come detto logica e logos e viene anche suggerito dallo zoar che dio è il sole e uno scudo di protezione vedi anche elio spera qui nel sistema solare sistema della vita sulla terra anche soprattutto grazie e onore lui darà non rifiuterà il bene a coloro che camminano innocentemente diritti eretti diritti verso l'alto eretti ergo protesi verso di lui come homo sapiens che si passano da uno stato curvo a uno stato eretto sapiens di sapienza di sapidità di sale di saggezza per il tetragramma è un sole è un sole e uno scudo e darà grazia e gloria e nessuna cosa buona rifiuterà a coloro che camminano che camminano rettamente sole e shemesh shin mem shin e scudo protettore aspetti del santo benedetto sia lui il sole è il santo nome il tetragramma come il figlio con tutti i livelli è uno stato calmo il sole sta a dio come cristo sta a tutti i livelli ergo al processo dinamico della creazione della materia e lo e della non materia del visibile dell'invisibile e lo scudo è il segreto del santo nome chiamato elohim dio che è malcode come è scritto nella genesi 15 1 dopo queste cose la parola del signore fu rivolta e tetragramma io fu rivolta ad abramo in visione dicendo non temere abram io sono il tuo scudo la tua grandissima ricompensa io sono asse verticale ariete segno zodiacale lettera aleph l'aspetto di malcode della scechina che ci protegge in malcode l'alef è la prima lettera dell'alfabeto ebraico la valore valore 1 e poiché vediamo come di come detto la dio come inizio di tutte le cose la lalef rappresenta dio nell'alfabeto e nella bibbia ed è incarnato nella struttura della prima lettera del primo versetto della bibbia quindi diciamo prima guardiamo alla struttura interna dell'alef composta da altre tre lettere dell'alfabeto due iod e una vav la vav collega la iod dall'alto con la iod sottostante la vav ha il significato di chiodo uncino gancio è solitamente tradotta con la parola e come congiunzione e in questo modo è l'elemento di aggancio di collegamento la somma di queste lettere è 26 ed è il valore numerico del nome di dio e questa interpretazione diciamo piuttosto conosciuta dai cabalisti tuttavia quando usiamo la geometria melui la geometria piena per questi due iod e questa vav la somma è quella del nome elohim 52 diciamo la summa 52 che è quella del nome elohim nello stesso tipo di gematria perché lui ma anche la gematria 86 ve l'avevo detto che avrei dato alcuni numeri ma questo a far presente una sorta di importante unione tra i campi che viene a portarsi all'attenzione e come dire indica anche l'unificazione diciamo del del padre del figlio e anche del figlio unito alla creazione il figlio unito alla figlia il messia il ritorno di cristo re dei re e del mondo oltre lo zoa con tutto il dovuto rispetto ovviamente nel senso anche evangelico della rivelazione diciamo nel rivelatorio il tetragramma darà grazia e gloria anche se la grazia e l'onore sono attratti con facilità lo scudo è attratto con forza qui ritorna l'idea dell'interazione forte e divengono nel divenire insieme congiunti uniti nel segreto della connessione dei nomi del tetragramma e di elohim e il tetragramma sta al figlio come elohim sta alla terra e il rabbino salton qui lo cito rispetto a elohim e la natura divina in ebraico il valore numerico della parola elohim è lo stesso della parola natura faccia mamma paciente in cielo in terra anche ed è un metodo diciamo la gematria che trasforma in ogni ogni lettera in un valore numerico è associato alla geometria sacra in questo senso e alla grammatica radicalmente parlando e sono tutti i metodi spirituali che ci permettono di comprendere meglio i livelli più profondi e nascosti delle cose della creazione sono anche il nostro i nostri geroglifici e le cose che non possiamo vedere chiaramente in superficie o che non possiamo capire sono alcune i formi che usiamo usando i nostri altri sensi e possono che traduciamo trasduciamo usando i nostri altri sensi possono essere misurate calcolate con il sistema numerico nel caso della geometria e della grammatica e della geometria sacra il metodo segue un sistema in cui comunque questi valori numerici comportano dei significati delle sostanze e la natura in ebraico è ha teva che anche il valore numerico 86 appunto come elohim è l'essenza divina della natura elohim è l'anima della natura animus e anima anche questa distinzione viene portata in evidenza e l'anima mundi mentre le sue forze fisiche vengono percepite da noi come pioggia neve montagne tempeste eccetera queste forze rappresentano una manifestazione fisica di questa anima sono il suo corpo e qui pensiamo a cristo che comanda gli elementi e il divino è qui nella natura la geometria e anche anche ed è uno strumento appunto che rimuove un velo per portare alla luce altre verità alcun altro diciamo un livello più vicino alla verità ma naturalmente ci allontaniamo dall'idea della filosofia ma anche del dogma ci lasciamo guidare ciao top buona settimana viene detto oggi è domenica da questo rabbino in questa citazione che è saltata gli occhi nelle ricerche e altro da rabbi rami elohim non il dio creatore ma il dio creante il participio presente del verbo creare che a principio della creazione spero di non annoiarvi con queste chiacchiere ma sono per me di una di un valore che può essere utile appunto con mente aperta a cogliere luce nella coscienza piantare i semi ci sono due aspetti di natura come di natura natura come spinosa anche suggerisce natura natura se natura naturata e diciamo come dire dio è la natura come che contiene la natura dio contiene la natura e non è se ma è allo stesso tempo non ne è separato c'è un elemento comparativo della grandezza dell'attività tra il creante e la creazione la creatività stessa la natura creante c'è solo il fare solo il creare che è dinamica appunto la dinamica legge universale che anche agente della creazione la creazione non è non avviene nello statico nella staticità nessuna cosa buona egli rifiuterà a coloro che camminano rettamente erettamente edificata ed eretta la mente come un sacro edificio un santuario eretto sapiens saggio il 26 valore geometrico geometrico grammaticale del tetragramma è un segreto della prima luce che c'è set e set la quarta sefira già citata misericordia amore incondizionale universale madre del figlio madre di misericordia avvocata nostra detta nel cristianesimo e come scritto mater matrix e anche bina genesis 14 e dio vide la luce che era buona ed io separò la luce dalle tenebre e gioppe 38 15 i giusti possono connettersi alla prima luce ma non i malvagi perché il santo benedetto sia lui ha nascosto loro la prima luce in questo mondo e nel mondo a venire ma qui all'idea al di là della traduzione no del bene del male è l'idea della visione che portata all'attenzione la capacità di vedere e la loro luce è trattenuta in questo senso da questa incapacità fisica di vedere da questa fisicità che diventa limite e il braccio destro alzato e spezzato di conseguenza ma ecco appunto portando l'attenzione su questo letterale aleph significa anche bue o più precisamente bue sacrificale che è la creazione la natura che è maestra di sacrificio questo sacrificio del caos in ordine dell'ordine ovvero è necessario sacrificio restrizioni necessari per portare ordine non facciamoci ingannare per organizzare un sistema in cui la vita sia possibile che supporti e sostenga la vita la negentropia detta è necessaria di nuovo il 15 e il 60 e la lettera sa mecca rispetto al messaggero un mua mua il coyote in questo caso associato lochi la figura del burlone il nome deriva dalla huaiano e quindi la balena pinocchio tutti quelli che sono anche gli archetipi associati a questi viaggi di riconduzione di riconnessione di ri identificazione del bambino interiore anche il nome deriva dalla huaiano o mua mua che significa o raggiungere qualcosa ricordiamo il significato anche precedente di telemaco che è colui che combatte da lontano remoto in remoto da desktop remoto interfaccia della nostra coscienza della realtà e mua raddoppiato per enfatizzare come prima che viene prima che è prima che sta prima la coscienza di prima detto anche come come prima detto come suddetto ed è suddetto ed è il primo lontano messaggero il messaggero transiderale che viene da il disco detto scattore disc e che è questa enorme ciambella che circonda tutto il sottoinsieme no principale diciamo di tutto il resto anche della della nube di ort anche come conosciuto questo disco che contiene la cintura di kuiper che contiene anche la propriamente la nube di ort la nuvola e la nube locale dove miracolosamente la nostra la nostra atmosfera ci permette di vivere appunto tutto in questa grande bolla in questa grande bolla raggiungere il futuro e viaggiare nel passato ma dipende dal punto di vista dal viaggiare nel tempo nel non tempo è un provenire comunque dall'albero della vita è un provenire da questa misteriosa nube di ort da un punto di vista fisico un mago di ort verso il sistema solare diretto ricognizione trasmissione di informazione alla coscienza superiore intercettata ricevuta da mercurio che coincide nel punto di unione tra adar e adal adar che è la bellezza venere visibile bellezza della vita sulla terra dal che è il viaggio nell'invisibile le profondità di plutone nettuno sole luna il cuore del pianeta che mantiene diciamo quei suoi anelli strutturali questo matrimonio quei campi magnetici ideali per la funzione saturnina nel campo del tempo di questo velo dell'illusione equilibrando la forza e la disciplina le interazioni tra le forze viene portata all'attenzione tiferet la sesta sefira come rame metallo ciocma come oro offerte che vanno elevate verso alto verso l'altro si dallo zohara rame oro come strumenti di medicina come direzioni della ruota medicina il rosso il giallo portati all'attenzione nello specifico momento nella ruota di medicina il rosso e sud e il giallo e l'est il fuoco il l'est e il sud è l'acqua e nell'albero della vita appunto è esed argento il sistema planetario solare è il kernel del sistema operativo di rete gaia ed è nucleo di trasformazione per il sistema stesso guarigione 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 in tutti in tutte le salse fucina vulcaniana i pianeti esterni regolano le relazioni di quelli interni per il per il mantenimento del sistema funzionante in equilibrio regolazione cinghia di trasmissione distribuzione di informazione a campo di coscienza che è logotipo per il bilanciamento del sistema logos tipo che ha il rapporto diciamo questo sistema che è il rapporto terra sole come motrice motore e matrice centrale scheda madre venere processore marte acqua e fuoco fusione stellare alfa permette il passaggio delle acque dalle acque alla terra e acqua e fuoco sinergici e funzionali alla dinamica vitale del processo evolutivo del campo quantico di coscienza in cui avviene la sintesi dei gas nobili non dimentichiamo il nucleo ferroso dell'universo marte principio young fuoco fusione direzione est in questo caso che è corrispondente al nostro cuore ed è congiunto attraverso l'emoglobina al nostro cuore saturno nei pesci porta l'idea anche della circolazione sanguigna circolazione nel sangue di luce di informazione stellare indotto dall'attivazione di segmenti di dna che provengono dall'inizio del tempo in cui il nostro futuro risiede il futuro il primo carattere diacritico della parola omuamua non è un apostrofo è un colpo di glottide viene portata in evidenza l'idea della del suono gutturale della lettera c'è ottava lettera dell'alfabeto ebraico dal mio terzo occhio il terzo occhio della coscienza collettiva alla visione interiore prima diciamo a dar ad alla bellezza e l'abisso e nell'analisi gematica dello spettro di informazione di questi concetti viene evidenziarsi lo stesso valore dato dall'unione gematica del tetragramma del nome elohim quindi elohim come appunto sequenza numerica 121 in questo caso 11 11 11 11 che dir si voglia anche e viene portata all'attenzione il numero 1776 valore del primo verso della genesi 1.4 valore gematrico e data anche come già suggerito nei video precedenti comunque viene portata all'attenzione una citazione del dottor pillai noi siamo luce ma non solo la luce dei fotoni noi siamo la luce di dio e la luce del mondo è la luce luce e spirito la luce è corpo di luce la materia torna nell'ombra con il corpo fisico ma il corpo di luce procede dallo spirito e nello spirito e nella forma della coscienza del corpo di luce che veniamo sulla terra e Cristo aveva questa coscienza lo manifesta sulla croce pillai center centro ayurvedico anch'esso tra le conferme del cammino ma la risposta è sempre sotto i nostri occhi come funzione e funziona ed è funzionale ed è come se fosse diciamo un enorme ragnatela questo spazio e noi siamo dei minuscoli ragnetti che si affacciano giù nella vita col loro filo nelle esperienze e mangiano e poi tornano su siamo figli di binà in questo senso e nel senso del sogno diciamo questi ragnetti partoriti da questo grande ragno che partorisce la creazione e miliardi di ragnetti di connessioni di interconnessioni di intrecci e quello che c'era ieri anche diciamo sul mio comodino di ragnetto che voleva darmi questa risposta ma io ero troppo occupata a impaurirmi per a togliere poverino ma in ogni caso come dire i miei occhi i miei sensi così grandi e così limitati ma è limitante a volte non riuscivo diciamo a sentire dire cosa volesse cioè cosa volesse dire non riuscivo a ascoltare ascoltare veramente come sostiene anche donald hoffman già citato la cosiddetta realtà o ritenuta tale considerata reale vera o pseudo è illusione o creata comunque dalla nostra coscienza e dalla aggiungerei allacciandomi allo allo zohar mi veniva di dire shofar ma shoar in questo caso allora la scena che non è in forma diciamo non è in forma volontaria per quanto riguarda noi ed ecco il punto focale dell'evoluzione della coscienza evolutiva per ritornare uno col nostro dono creante è il cerebellum e l'inconscio che tesse per noi ed ecco perché il cerebrum e il conscio sono degli effetti e delle conseguenze perché discendono causalmente dall'inconscio creatore creante andiamo a conoscerlo questo è l'invito 20.000 leghe sotto i mari nella coscienza al centro della terra la porta del sole in sinergia tanto numero 41 e tanto numero 5 qualcuno avrà notato e il mondo che sperimentiamo è una necessità della mente per giustificare diciamo le percezioni sensoriali giustificare creato dalla necessità della mente di creare un sistema idoneo all'applicazione delle idee come si fa in questo senso delle carte e come dire anche questo suggerito da neil stefenson creatore scrittore romanzi che risuonano in questo campo di coscienza nell'intersezione di appunto anche lui fa osservare degli esagoni c'è un pentagono e noi quindi ci viene suggerito di praticare l'alchimia della sinergia che anche un non vivere la vita a casaccio in questo senso e sfruttare l'opportunità di usare la vita come palestra per le capacità della coscienza che è quindi dell'inconscio per riallacciarci alla nostra integrità nell'uno che siamo di queste di queste componenti che anche diciamo questa capacità della coscienza che anche la sua capacità come log misura di dei liquidi biblica misura biblica dei liquidi e quindi di capacità vaso e contenitore esperienze suggerite dalla coscienza maestra che è vasaio in questo senso come detto anche precedentemente della natura che con la negantropia ci insegna anche a organizzarle ea operare questo termine miracolo attrazione del cielo e sua messa in terra siate benedetti nella pace di cristo che scende su di voi e con voi rimane per sempre così è e con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata ciao